Abbiamo in jungle abbiamo TF Blade In jungle abbiamo TF Blade Ah ok Che non so chi è Che cazzo è? E boh Lady Carr invece è Melon Con un account comprato Melon hashtag 2 3 1 3 1 King Lion Questo 1 1 1 1 Vediamo un po' Ah Chiana non vuole farmare a quanto pare Perché È andata Ma perché ha così paura La satizia Boh Non posso fermarmi Non sono riuscito Peccato per il carretto È stato a livello 4 Prima di poccare ancora Come? Non capisco Questa tizia qua sta giocando come una pussy Non capisco se è una strategia Secondo che Chiana si fa così Cosa Non abbiamo la top prior Mi spiace Di Sinn Boh a sto punto vado back Che non lo so Mi ha preso Tosto più niente Le Mel più tost Ecco Perfetto Sì ho perso il TP Diciamo però Anche la luna Sorge Io ho trovato Mi stava Stato torno Ho scritto pussy Mi hanno silenzato la conta Per dieci giorni Solo perché ho scritto La parola pussy È una parola brutta Non t'ho vista amore Vabbè Lei però t'ha vista Che odio che Dianna inizia Non fa danni Non c'è Pike Mi preoccupa di più È Lilia Posto Un nemico è stato ucciso Non vogliono ascoltarvi Arrivederci Finito con la stessa No 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 Mi sto allenando Proprio per Aspetta Mi sto allenando Proprio per la stessa Forte sale Adesso lo scrivo Nel titolo Domani riprendo La stessa forte sale Adesso non ho Neanche motivo di giocare Sono secondo E Gli altri stanno giocando E stanno perdendo Cioè chi gioca Pè Scende A quanto pare In questa sfida Chi non gioca Chi non gioca vince Se sei forte Non giochi Sì sì Se sei forte Vinci Le prime dieci partite E poi non giochi più E gli altri E gli altri Cazzi loro Allora Chiana non capisco Quale sia la sua strategia Perché sembra che abbia Una strategia Ma poi fa schifo E quindi Non so Non push Non fa niente Grazie al follo Il profeta Ben arrivato Ma non ti conoscevo già? C'ha visto il tonic Doppia uccisione Doppia uccisione Mamma mia Jim perché non si è fermato prima Non ho capito Ma ok Quella lì deve andare per forza back e io la push. Push mi faccio un po' di play, te lei non dovrebbe avere il TP. I jungler ladicari sono bruttini, proprio brutti bruttini eh. Ma sono 3-1 l'ADC, 3-1. Sì, grazie a me, perché se non fosse... Buh, non capisco sta chiana. Che fa? È matta. Vabbè, meglio per me. Vi dirò. Chiana ancora l'ultimo. Forse è tipo la prima volta che giochi a chiana, perché... Anche le scene è proprio... Un po' matto eh. Chiana fa un effetto grafico simile alla luna sul pavimento del gioco. Davvero? No, non lo sapevo. Grazie mille, Fabi. Ok. Boh, pazza sta chiana. Ma lì sì, non è veramente scarsissima morire così eh. È scarso in culo. Ma poi anche il positioning. Cioè, prima ha fatto un'azione bot che era la cosa più brutta che io avessi mai visto. Eh, ma anche Jin si muove proprio male. E abbiamo fatto altre due plate. C'è un fitto di andare bot e invece andiamo top. Mamma mia. E invece andiamo via. Perché c'è gente qua. Sì, sicura che hanno messo a guarda? Cioè, no, no, non l'hanno messa. Però c'è Paki che sta venendo da te. Ok. Ma già qui in realtà. Come cazzo è successo a tutti ciò? Che culo. Una kill particolare, devo dire. Non gioco a LOL, non ho mai giocato. Ma ti seguo perché sei davvero brava a intrattenere. Soprattutto è rilassante a vedere le live. Complimenti, davvero bravo. Grazie mille Camillo, benvenuto. È strano che tu segua LOL che non hai mai giocato a LOL. Perché, cioè, non so quanto ci capisci. Io se non giocassi a sto gioco non ci capirei niente a seguire uno che lo gioca. Magari capisci piano piano, non lo so. Sicuramente quello aiuta. Però, come hai trovato la mia live la prima volta? Se appunto... Non hai mai giocato a questo gioco? È anche interessante questa cosa. Come ci sei arrivato sul mio canale? Questa qua la ammazziamo, ragazzi. Ah, posto. Minchia, 3-1 Kyle stava. Stava 3-0, meno male che l'ho uccisa. Ho fatto due plate top... Tre plate top. GP è rimasto molto indietro. Ah, sono entrambi champion da late. Però, cazzo, GP sta rimanendo veramente troppo indietro. Eh, vediamo un po'. Chi ha le botte. Ah, c'è. Aia, non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista. Ciao, Mad Ferry, grazie al follow. Ben arrivato. Benvenuti, ragazzi. Oggi abbiamo fatto content warning e adesso stiamo facendo LOL. Prima partita di stasera. C'è la prima torre, ci prova. C'è la prima torre, TP sprecato e vado top. Vediamo se riesco a decidere Kyle. Mamma mia, GG. Posto, ora back e vengo lì. Sto coglione di Resin. Conosco LOL di nome, non ti so dire come ci sono arrivato perché ti seguo da tempo. Ho provato a giocarci ma non ci capisco nulla. Non ti seguo perché le tue live e i tuoi modi di fare fanno sembrare tutto facile. Ottimo, Camille. In realtà, ultimamente, stiamo trovando molte difficoltà. Facile non è la parola per noi in questo periodo. Però è normale, stiamo facendo una sfida difficile. 9 vali sin polle. 9 vali sin polle. Poverino, no, 4 ci sta provando. No, ma è proprio, non ci, non lo so, è proprio scarso. Non che è un bad game, è proprio scarso. Ma come faceva a saperlo che c'era pure pink? Madonna, è arrivato al pelo. Picchiaforte, Diana, è merda se picchiaforte, sì. Oh, sa arrivare. Eh, però, c'è quella botta lì. Mi ha un po' di fastidio. Eh, sì. Potete fare l'herald? Vabbè, abbiamo preso due draghi, comunque. Almeno quello. Velocissima Lilia. Da prendere il red buff. Ho dimenticato, come ho fatto a dimenticare un trinchetto rosso? Oh. Andiamo, 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 sono tre, sono tre. Kyle non c'è. Che cosa ha picchierato il pato, sì. Ho posto. Usciamo, usciamo, bro. Ho 25 stack di Mejai. Facciamo il recall veloce. E ci compriamo. Boh, direi tipo la Zonia. Sono tutti a D, praticamente, a parte Lilia. Anche Kyle è a D. E continuo a dimenticare. Ah, ok. Allora che... Oh, vissi ha. Madonna mia, lì fu proprio un shot. Ho sentito il leggendario tre volte di fila. Un nemico è stato ucciso. La tua squadra ha distrutto il naturale. E il greco spesso è stato ucciso. Ma ora questo che ho fatto Mejai, l'ho, eh. Infatti, i miei game vanno così bene. Ok. Lì, G. Chiana è esplosa, io pusho la top. Voi restate pur mid, tanto va bene. Guarda qua, le torri, come si sciolgono. Andiamo back. Cucino smarfa in platino. Sì, sì. Praticamente, questa partita la stiamo smarfando duro. Sì, sì, sì. Ho 730 di AP. Pensa te. In questo minuto è tantissima, è un'enormità. Non posso fermarmi. Non posso fermare. Non posso fermare. Ci succedi in 둘i. Bene bene. Era outtato Tutti innappiati Un impazzito orissino Non ho niente C'è il drago Oh, un shatata Facciamo il drago, no? Sì, sì, si può fare il drago, però Riusciamo a pushare la torre, adesso sono due morti Amore, cioè io vedo uno e lo faccio sparire Nasty! Oh, chi c'è qui dietro? C'è chi ha, ma può far poco Non mi ricordo che fa la V di Dana, di certo non gli fa bene a loro Eh, non lo so, it's toy Goalizziamo gli smeraldi Chi ha una soft hinting? Cosa potremmo prendere, raga? Pensavo alla Banshee per essere resistente anche alle magie Questa sta comprando un po' di Magic Raids Ma sì, tanto, chi se ne frega Non shatiamo lo stesso Facciamo il baron, dai Non possono affrontarci Cugino di provare Ornon con tutti gli oggetti che fanno danno con il fuoco È forte? Quali sono gli oggetti che fanno danno con il fuoco? Allora, solo baron senza oggetto da jungle Vabbè, solo baron no C'è anche Marghek che mi fa le cose, dai I sin proprio ignorati Ecco Basta, io ho fatto il mio dovere Ho bisogno del blu, non ho mano Carriato pesantemente, eh, perché sti tre Gruppo, Diana, livello 16 Ma come gruppo? Non è il mio gruppo GP Ma chi è? Chi lo conosce? Vabbè Dai, adesso anche Gina ha 12 kill Quindi siamo tranquilli Sì, grazie a me Che da solo non le prendeva Oh, quella fa male, eh Io di più Ah, povero TF Blade, era una pippa Molto bene Molto bene Molto bene In questo momento Diana è meglio in giungla o in mid lane Non lo so Io gioco Metto mid secondario giungla E gioco entrambi i ruoli Combatti 93 Agricoltura 100 Visione 80 Ragazzi, eh Non male Non male Eh, ho fatto delle belle cose 32 LP Dianmo Chiana Plat 2 Lilia Smeraldo 4 Ma come fanno ad essere così forti queste persone? Cioè Plat 1 Bello stagione scorso a Diamante Siamo folli Ah, ma no Che è? Questo è plat 1 Io sono plat 3 su quest'account C'è problema di livello 33 comunque Anche lui Ha iniziato a giocare da poco come me In questo livello 47 Smeraldo 4 Agricoltura A me piace molto l'agricoltura Sono proprio un agricolo Eh sì Praticamente mi hanno dato questo link E mi hanno detto Per ogni persona che lo scarica E fa livello 5 Mi daranno un tot di dollari E per ogni persona che fa un attacco Altri uguale E per ogni persona che compra il pacchetto da 5 euro Mi danno 20 euro Porca troia Ragazzi questo è da fare Non è Red Shadow Legends Lo possiamo accettare questo sponsor? Che dite? Cosa poi ne parliamo? Perché tanto adesso siamo a fine line Magari domani lo facciamo 5 euro su un giochino Mi sa No 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 Creare account spam non si può fare Profeta Dovete farlo voi Singolarmente No Non è quello ragazzi Si chiama Puzzle Survival Poi vabbè Dopo Domani vi metto il link Oddio In realtà ce l'ho già il link Devo anche streamarlo Cioè comunque Mangiare i cioccolatini della link Sembra come Tipo mangiare Un paletto di burro Allora se volete Se volete ve lo metto già il link Così qualcuno magari può già scaricarlo E far la roba Poi domani ne parlo meglio In chat Se volete io ce l'ho il link Ve lo posso mettere qua in chat Ok Lei è cattiva Io lo metto Poi domani lo sistemiamo Rank o draft È sempre rank Non faccio mai normal In live Le avrò fatte Magari Una cinquantina In quattro anni Per farti capire Quello è il gioco Bisogna arrivare a livello 5 Dell headcarter E fare un rally Attack Non so cosa sia Porca troia Un lucky Però io il tp L'ho usato tutto Ok ora attendiamo solo che Arrivi E le salta in testa Appena arriva Non ha il flash Nemmeno se giovani Grande Raiden Non vogliono ascoltare Non so se lo voglio Il suo gank però Ma tanto lui deve Gancare per forza Deve farle stack Quindi gli conviene Farlo Non ho mana Lo sapevo che Non lo volevo Su Questo è giovani qui Ma porca troia Ma dai Che sfiga Mannaggia Ma non si può Ragazzi Ma cosa sono Quelle due Con un hp Ma non si può Ci va I crepite Eh vabbè Eh vabbè Da sto punto La frezziamo qui Non so quanto le convenga La signorina Fare sto giochino Qui con me Eh ma lei c'ha il blu Sta lì Ma non ci posso Credere Vabbè dai Ok Tre volte con un hp Dio mio Vabbè niente Smettiamo Almeno la prendiamo Con filosofia Eh sì Io invece Ho gaggiato tre volte E tre volte Sono morto io E lei Non è morta Cioè capisci Che Vabbè Sta lux Sì Tanta roba Tanto culo Fabio Tanto culo Io avrei tiltato No Non si può tiltare Ragazzi Tanto li stompiamo Su via Care bot Torno mid Next time Che sono contro lux Non prendo Diana Ragazzi C'è Io non volevo Prendere Diana Però ho detto Proviamo il matchup Magari era anche buono Eh il matchup Però Sta sfiga qua Non è possibile Dai Letteralmente È È un complotto Sta roba Farmerò E basta Aspetterò il momento Giusto Non ci provo più Ormai Non posso più provarci Cioè lei è troppo avanti Troppo fiddate Ah già questo Io Ho un quarto Dei suoi oggetti E anche Quindi ci farm Più di me Che sono un'altra kill Quindi ci di farm In pratica Devo givappare Tutto Io Ho preso pure La plate Ho preso Niente qua Magari usciamo Vai vai Oh salve scusi Palle E che intanto Dal top Ha fatto la kill Ovviamente Noi qui no 4-1 Lux Ma beh Meno male Io mi salvo Ho preso un'altra plate Non ho soldi per pink Troppo indietro Hanno swappato Mid top Va bene Va bene Mi va tutto male Mi va tutto male Sto game In gaggio Cioè Sejuani nel bash Che mi ulti E neanche dire Stava Si vedeva Pallese Che ingaggiava Ero qua L'ho fatto la queue Poi ne sono andato Poi dopo l'ho rifatta Però Vabbè Va benissimo Tanto È Il karma Qua io sto facendo male E top E mi radici Stanno andando bene Quindi A posto così Tanto non sono mai Use l'escondiana Ecco qua Appunto Bene 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 Eh eh Sei fidata solo per culo cogliona Ho schiavato tutto Oh ma guardate che c'è lì Guarda qua Come ti uccido Quattro kill Eh sì che godo Ho fatto una kill È incredibile Ho fatto due Ciao Drill Buonasera tutto bene Tu come stai? Proviamo il Lich Bane E tiriamo dritto Let's go Non avevo mala Mi dispiace Ah se c'è un troppo tank Ma porca troia Basta Sejuani Ti odio amore Ma è sempre qua Ma porca troia Sto Sejuani Incollata al culo Grazie mille Grimbo Grazie della sub Ben arrivato Cugino tilt Eh sì sono molto tiltato Infatti Si sente Ok 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 Sveani si è appezionata Molto Però va bene così ragazzi Cioè Sejuani è fissa mid Ma intanto La top lane è stata devastata E anche la botta Sta vincendo Quindi Io Non sono così tanto indietro Rispetto a Lux Quindi è a posto Ancora Non ce la possiamo fare Ma dai Sono così amate Folle quello Se ci va Un po' folle Contro questi Lo vediamo Sta scendendo L'orsetto No Sono lì Si ballano La ranza Si Vengo anche io A fare la ram Ho la ulti eh Ma porca Trove Arriva Troia Oh questa azione È stata perfetta Ho bisogno di aggiungere La stessa No no Questa è stata una good action L'avevo dovuta anche sopra di me Ho oltato Così Ho preso i danni di due E poi ho flashato su Lux Se lo ho shottato Facendo il sagoma landa Perché affrontare si due tank Almeno così Facciamo più danno In forza che restiamo in fight Più dura il fight Più facciamo danno A posto Serie di uccisioni Interrutti Sono la luce Della verità Stupida Rain Che ci faceva lì Da sola Peccato Mannaggia Mannaggia Basta Ma porca Troia Veramente Inter L'abbia pingato Sento Atrox Perché l'usia Mi fa male Eh basta Morigod E' stato ucciso Un posto fermato Ah Ma della fortuna di questa Lux Rimane sempre Con uno di vita Ah rotti i coglioni Ah veramente Sta arrivando C'è il drago Ma perché così tanto Vabbè Se già neppero mi vede Mi ha ulti Ops L'evoluzione E' stato addosso a me Ovviamente Ha fatto bene Minchia Minchia Oh oh Porca troia Che cosa gli abbiamo fatto Con sta ultima Boom Tutti presi Questa è stata Enorme ragazzi Very nice I love that Eh si Questa è stata Very good Ma ha ultato No era la E Ma tutti questi Volibeer Che stanno facendo La build Che sta spopolando E fanno tutti cacare Sia quando me li trovo io Sia contro C'è una build di Volibeer Che tutti dicono È fortissima E poi fanno cacare Perché servono tre oggetti Per Perché funzioni Quindi non sanno Che fino a quei tre oggetti Fanno schifo Buonanotte Mika La cacabild Forse vogliono far cacare Apposta Eccola qua La cacabild 1-9 adesso No Anche l'inibito Pensa la gente Aspetta tre agenti Per essere full build E poi c'è Giyasu Che con l'infinite Ha già giusto Vabbè Comunque ne servono due Allo stesso Giyasu Ne servono comunque due E si scala C'è più 32 LP Prendo qua Qua c'è stato un bel più 30 Non male Dai facciamo l'ultima Loro hanno due smart Che non hanno ancora Finito di lancare Diamo che Lo sono Queste persone O i loro precedenti Game Briar Darius E anche Lux Madonna Tre persone Che è livello 30 26-7 26 kill Ma cosa fa 26 kill Ah è un ruinit Era quello che avevamo Prima O con o contro Mi sa Madonna Ma questi due Sono mega smart Darius e Briar Sono mai giocato A un cazzo Darius ha fatto 18-9 26-7 Briar ha fatto 26-7 Eppure lei Bene 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 Norman Quick play Quick play Quick play Quick play Quick play Quick play 26-7 15-8 13-12 26-13 E' vinto 3 su 4 E' l'unica era quella di prima Cioè C'è lo stesso 3 Avessimo Una con quel nick Prima Non so Oh. Oh. C'è Brian nella jungle nostra? Non lo so. C'è appena stata. Cosa? Si è lì. Potrebbe venire a botte, faceva una strage. Cosa? 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 Madonna. Cosa? 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 Era meglio se la prendevo io. Praticamente Brian ha appena fatto vincere il game a tutti. Sì. Perché per sta cacata io ho guardato il mio farm a 7 a 20. Ho inseguito in giungla la tizia e non ho farmato un cazzo. Ho perso due wave. Non ho almeno il mana per poter... Ma c'è, vabbè, affanculo. 11 a 20. E ovviamente anche il top è rimasto indietro. E il top è... Mi sa per mid col jungle perché... Appunto li ho visti... Ah no, Brian è per mid col mid, porca troia. Eh... Infatti il mid si chiama new account zero. Bello. Bene, bene, dai. Ok. Il mio account zero però non sembra bravo. Ho fatto degli score brutti, ho visto. Non posso fermare. Ah no. 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 Ok. Arriva Briar, attenti. No dai, è morta sotto torre così. Sì. Vado. Vado. Vado molto. Mannaggia. Abbiamo due smurf contro che sono Briar e Darius. Briar sta facendo male, però Darius purtroppo sta facendo bene. Ciao Poliedro, grazie del Poliedro, grazie a farlo, ben arrivato. Manca Darius, Ward lì. Le Darius banca Zed, eccolo lì. E' un po'. Oh, vuole lei, vuole Zari. E' un po'... ... ... Sta stronza, cosa pensava di fare? Ho ucciso Briar Buono, buono Morta anche Zed, vedo Forse faccio anche la Blade Sicuro che la faccio Galder's non sta facendo benissimo Yorick Loth scala Vediamo, vediamo Speriamo così Speriamo sia così Scarpine 4-0-0 Mi piace Questa deve essere È molto bella, Zeri così Penso che tutti i miei carri così siano belli Eh, ma Zeri in questo momento è super potente Cazzo, stanno tutti top Tenete a pushare Non ne hai bisogno No Stanno tornando bad, mid No, stanno facendo questo This thing when Zed is not in your lane Bro, sei stato gancato sia da Janger che da Zed Però il problema è Zed Buono Sempre così Tu sei più smarf dei loro due Infatti li stiamo smarfando ragazzi Eh, ma hanno ragione Io sono abituato a dirle a voce le cose Vabbè, Zed è lì Oh Che fa questa Flash di Briar Briar, sì Si chiama Briar Non so come si chiama Lo champion di Io Briar Sono morta Ah, su di me Ok, sono di me E anche oggi siamo finiti Sicuramente pensavo di farmela Per quello sono rimasto fermo A farmi colpire Perché l'avevo lasciato con uno di vita E quindi ho detto Boh, l'ammazzo E invece Ovviamente lei Facendo un campo è tornata a full vita E quindi non me l'aspettavo Vabbè, ci sta Sottovalutato Il problema è che questa kill mia Vareva tanto Perché avevo una taglia sulla testa E quindi si è presa 600 di oro Le rune che uso sono queste Le team in Georic Inside È incontrastabile Le rune che uso mid sono queste Le rune che uso jungle invece sono altre In jungle si usa il Conqueror Non mi lasciano scelta Dominazione Ma io che cazzo ho cliccato Perché ho fatto il Rabadon Il flash non serviva Va bene Ma è sempre qui questa puttana Va bene, va bene E con tutti e due morti Io mi faccio offrire Arrivò anche Lux da te lì Ma tutti che flashano da sto muro Cioè Mi trovo la gente che mi esce dal muro Tu non hai visto quello che ho visto io Comunque Cosa hai visto? Se Giovanni ha provato a fare la stessa cosa Ha flashato contro il muro Cioè Ma è la terza volta che mi esce una persona da sto muro Così velocemente Briar l'ha fatto due volte Una col flash e una senza Adesso flash è Lux Ma che cazzo Ma Cosa sto vedendo Qua c'è Zed raga Scappo allora No no Uno di me sta scappando Dovresti ucciderlo Vabbè ci penso a Sejuan Non può scappare da Sejuan Sejuan è fortissima Che è? No comunque mi ammazzava Non mi bastava lui Minchia Zed ha perso un quintilione di tempo Uffa uffa Ah ma la Sejuan è fortissima È diventata un meta incredibile Ciao Sol Rufy Buonasera Tank Sejuan è fortissimo Eh sì Appunto Perché sono tank Eh certo Infatti vanno a Zack E tanti rompono i coglioni Ok Ok Povero Zed Zed praticamente È quello che si sta facendo boostare Da Briar È un duo con Briar Che fa degli scores incredibile Basta Not even one item and you can one shot me Nice Eh sì ma io in realtà ho sbagliato Dovrei averlo l'item Mannaggia mi ha fatto molto male Attento amore arriva Briar da te Andai dai Ora abbiamo l'itere Um Il focus è stato quello che era È stato un disastro che è successo Eh? Un disastro che è successo Zed Achille Ok Doppia uccisione Bravo Eh zeri è fortissima Non so vedo sempre zeri e sempre strafiddate sono L'avevi attirata a te? Sì a me Proprio sui giovani Bravissima Oh minchia Amore ha fatto una ulti Bellissima Ma pensa a quella come mattata Dove è stata presa dal mare lì Oh Mentre si trovano stanami e rompi i coglioni Brava brava A posto Si torno tutti come Kay Ma succede della roba qua Un attimo un dead zeri Uffa uffa Non ci sono minion qui Non sono riusciti Qui c'è una tipa Arriva arriva Qui adesso Madò Ma io ti amo Cioè Vedo queste cose mi fai sborrare Non so Ma che cazzo succede Oddio zeri no È zeri entato Doveva Pensate con le ombre Non è tanto pratico No è che Sapeva che Se rimaneva lì Restava morto da me Andare vicino Nami Magari era Più sicuro Morto da Nami Sì Oppure un morto Eh esatto Vabbè Ha preso tutto qui Eh C'è un bel po' di gente Eh ma ha preso Lux con la Q Mentre ero fermo Briar ha lanciato la R E mi ha preso al 100% Qua ho sbagliato Vabbè Briar non ha la ultima E loro stanno girando in branco Per uccidere uno alla volta Tu stai con zeri Che è forte Lo stai con zeri O stai con me Il top lo lasciamo ai cazzi suoi E via Devo dare una mano alla gente Senti Yes ho splitto bot Ho bisogno di mana Sorry Arrivando Peccate Per mezzo secondo Mezzo eh Oddio mio Mi ha sbattuto al muro Cazzo Mi sono sentito una puttana Sky Simo Grazie dei due mesi Bentornato Da questa puttana Come stai? Cugino come me notata oggi? Eh perché abbiamo fatto Content Warning E poi ho fatto Ho fatto un po' di allenamento Non dovevo fare live oggi Però considerate che Ieri ho fatto after E sono arrivato Ieri è stata una giornata Un po' assurda Praticamente Cosa è successo? Mi sono svegliato Sabato mattina Sabato pomeriggio In realtà Ci siamo svegliati Pomeriggio presto però Era pomeriggio presto Non tardi E praticamente Mi ho mangiato La carbonara Era il carbonara day Tra l'altro Ho scoperto Ma io la mangio tutti i sabati Perché sono Un vero Un vero fedele Ma era voltato Non so dove Penso top Minchia ma che precisione Porca troia È proprio brava E praticamente Dopo la carbonara Ho preso E sono andato A Bologna Ho fatto due ore e mezza Di macchina Per vedere dei miei amici Invece ad andare insieme A giocare a giochi da tavolo E fino alle sei di mattina E dopo Ho ripreso la macchina E sono tornato fino qui a casa Altre due ore e mezza Di macchina Quindi ho fatto cinque ore Di macchina ieri Senza dormire Per giocare a giochi da tavolo Ecco qua Quindi sono andato Ho detto alle dieci di stamattina Quando sono arrivato qui a casa E E niente Mi sono svegliato Che ore erano? Alle diciotto? Mi sono andato da letto Che erano le diciotto E quindi non ho molto sonno adesso Ho fatto Ma oggi non devo nemmeno far live Perché già l'avevo messo in conto Che Quando vado Faccio il viaggio Avanti andie Avanti andie Dopo Sono stanco Però ho detto Vabbè Facciamo questo gioco qua Content Warner Oggi tanto la live L'avevo tolta Non dovevo nemmeno farla Facciamo questa sorpresa extra Per I viewer Che è anche carina Che ha preso proprio Zeri Mannaggia Lei Ce la facciamo? L'ho preso io Veramente Ah non aveva lo smite Poi da poco content Abbiamo giocato a questo Che si chiama League of Legends Tutti i sabati Tutti i sabati Sei ancora in Anfield La mangio tutti i giorni In realtà mi sentivo veramente pesante Un po' la carbonara Dell'ultimo sabato Infatti Mi sa che prossimo La skip Però non l'ho ancora detta Marghe Perché la skipi? No Mi sentivo veramente stanchissimo No no Troppo gonfe Ti giuro Pausa per una settimana o due Ma quando è che rigonfio? Eh quando sono arrivato là Ero stanchissimo Vabbè ma grazie Una carbonara per un viaggio Non è che è proprio l'ideale Infatti Partiamo Stiamo leggeri Mangiamo una carbonara La tua squadra ha distrutto un'inibitura Eh 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 Volevano Minchia Che safe Che che sia Ma Cioè dai Una solo sabato Un solo sabato Secondo me È stato un problema del viaggio Non della carbonara Di meno allora Facciamo che ci metti un uovo in meno Ok Meno pasta e meno uova Io stavo pensando Volevo fare un live di cucina Dove cucino l'unica cosa che so cucinare La pasta La pasta Però adesso ne imparo un'altra cosa Il salame di cioccolato E vi faccio vedere Sarete orgogliosi del mio upgrade Sarebbe una live di cucina molto breve Ma anche quella del cioccolato Spero che tu sia felice di me Mi stai pingando per questo E quindi ti faccio un cuorecino E' riuscita comunque ad essere presa La prima volta che le vedo usare la ulti a Ash La tua squadra Insattiamo così Oh dio E la madonna Nooo In tatina finale In tatina finale Magari questo? È inibitore? Sì Mi sono pezzato una ward Allora è finito però No È stato il minion? Eh no, guarda il Nexus Ma stai però c'è quel super minion lì, è cattivo No, però sta attaccando Darius Vabbè Eh no You have Another chance now Gli abbiamo lasciato una piccola speranza La sapertica per il genio è servito molto, infatti tanto che non l'ho fatto Mamma mia Cosa non sa smetare? Ragazzi c'è una DNA in base Ragazzi c'è DNA in base Va bene, va bene Dai è stata carina Una bella partitina Let's go SPU 32 LP Io invece promozione Platino 2 Ah no, io ero già Platino 2 89 LP Come? Sono quasi Platino 1 Ma come? Ma hai superato Mamma mia Fortissima Fortissima Questa Nami È matta Martissima Nami Madonna Va bene, 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 va bene Direi pausa E noi ragazzi della Shwatt ci salutiamo qua Ci becchiamo domani sera Con la stessa forte sali challenge che continuiamo per davvero Ore 22 domani vi aspetto Ciao Filaire, buonanotte